Tu parli con queste croci però eh? Eh si eh! Con questo silenzio! Allora si può provare! Stacco William e Sebastiano! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Hugo! Tanti auguri a me! A noi! Per un'attestate di arrostaio ci vuole? Il massaggio! Il tipo d'assaggio! Il maestro! Come cavolo ha fatto sto compadre? Con molta pazienza! Sono grande! E ha adattato anche il forno! E per farlo cuocere! Molta pazienza! E' una cosa diversa! E' una cosa diversa! Una cosa diversa! Diversa da troppo! Diversa da troppo! Una volta è rossa! Diversa! 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 Quando è stato ucciso! Ma è adesso che per inserire! Sì, sì, dopo. L'acqua là non è che serve di tanto. Mettici roba idratante sopra. Quando è arrivato ci ha messo la crema alla liria, per addolcire un po' il nuovo, se fanno la torta non c'è. No, ci vuole qualcosa. Io non c'è un po' il peggio, ma io si vuole come la mia, come lui. È un peperone, da parte solo alla braccia, o oggi è già alla braccia, è solo da paggiare. Già quando quando è arrivato? I metodi antichi, quando pure i bambini tenevano un coletto d'oliva, c'è l'acqua e l'olio, c'è una crema. L'olio d'oliva. Noi c'è anche i bambini che non c'è l'olio d'oliva. La bronzatura difficilmente si tocca. Solo l'olio d'oliva. E poi la rendita la tappa. Una volta ero piccolina, ci stavano gli avarconi, non so se si chiamano così il termine giusto. Sì. Io sali lì su. Che c'è? Eh, perchè sai. A te. Catti. Andai con la mano a terra, mi russai la mano. E poi facciano la chiave e l'uovo. A stupare. 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 E la chiave dell'uovo. E poi la chiave dell'uovo. Sì, io la conduzio producers. C'è la lavara. Dove si stesse. Perché a noi si stesse in ingestiamo. Ma la chiave dell'uovo, tu nel sindicato. Sì, in metà. Sì, si. Sì. Ma... Noi... Papà curasce le fotografie. No, mi ricorda quando i bambini dei miei coletti rossi, acqua e oli sbattuti, che alzano se lo avevano immediatamente. Poi tutte queste creme, cremine... E quando io ho avuto Francesca, mi sono arrivato lì, là. Non c'è mai lì. Non c'è mai lì. Ma non c'è mai lì, non c'è mai lì. Non c'è mai lì. Ma non c'è mai lì. Ma non c'è mai lì. Ma non c'è mai lì. No, l'epoca io ho usato i... No, il mio città è lì. Ah, non c'è mai lì. I miei voti miei si hanno usato anche la... Ah, sì. Eppure le compite le altre sue mecchie. Ma non c'è mai un bichievo, dove lo sa? No, non c'è mai lì. No, mi... Stai qua e il più su caumine. Non c'è mai lì. No, non c'è mai lì. Che va? Che va? Vabbè. Ciccini, io non ce la faccio più. Uff. Forse, è buon' il gusto. Sto stare. Uff. Un belito... Un belito buono proprio, eh. Ha profumo pure se sente. Ma come si sente? Uff ma tu dici, via, ti faccio il mal, no? Eh, però io voglio una carta per cercare, magari non la mangi di male, perché, sinceramente, io oggi cucinando e cucinando, ti ho assaggiato. Già già ci avevate da... Non c'è mai lì, la primavera, diciamo che non c'è mai la primavera, non c'è mai lì, non c'è mai lì. Ma io non c'è mai lì, mi è mai lì. Non c'è mai lì, non c'è mai lì. È un belito. Non lo so, non lo so, non lo so Non lo so, non lo so Non lo so Che le fai? Una Gio, andrà la testa La testa, la testa La testa, la testa Ciro 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 Oh, ciao Te lo passo Lo passo subito Oh, ma tu cura qui Fa così, fa così Ci sentiamo in mano Saluto una filomena Chi tu? Oh, ciao Grazie Ah, lo sai Eh, male mi sento Oh, pronto? Sì Eh, grazie Eh, grazie No Eh, stanno Sono il cabasci Eh, ok, ah, ci sentiamo in mano? Stanno in mano con me Ciao Ciro Grazie Ciao Vi abbiamo presentato il maestro arrostaio Ugo Martucci Grazie 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 Grazie